Il Movimento 5 Stelle voterà no a questo emendamento che tuttavia vogliamo qui portare sotto la lente di ingrandimento proprio per il fatto che si sia dovuto procedere poi alle modifiche di Comune di Roma o Comunale in Roma Capitale, Roma Capitale, Consiglio Comunale in Assemblea Capitolina. A questa elencazione manca giunta perché il riferimento nella proposta di delibera rispetto alla giunta è sempre comunale, quindi anche la giunta dovrebbe essere capitolina. Probabilmente questo errore è stato fatto proprio perché i proponenti di questo atto forse hanno dimenticato di riportare, di costruire proprio addosso a Roma Capitale questo vestito, questo atto che invece dicono essere stato fatto su misura di questa città. In realtà sembra più che il regolamento sia stato preso così come era stato proposto per altre città e riportato all'interno del percorso degli atti amministrativi di Roma Capitale. Questo è uno dei motivi per cui questa delibera la riteniamo superata, neanche lo sforzo poi di adattarla dal punto di vista della terminologia corretta per quanto riguarda la capitale.